Ho pagato a caro prezzo il mio legame con l'incubo. Non sprecatelo. Piazza la Spike! Ne abbiamo trovato uno. Tranquilli, non dirò in giro cosa vi spaventa. Promesso. Omen, mi hai fatto venire i brividi, Abby. Di piacere. A qualcuno serve un'arma? Che io, l'incubo dei Radianti. Per fortuna siamo amici. Cinque marcati! Due marcati! Io risparmio. Nemico avvistato! Al mio via! Spike in C! Ultima quasi pronta. Cominciano ad agitarsi. Dove si nascondono? Arrivo! Gusal, stiamo andando alla grande. Nemici multipli in A! Riprovaci. Is innesca la Spike! Come un'amuccita in Aranatela! Omen ucciso! Arrivo! Una mano, lascio la Spike! Ultima quasi pronta. Ehi, non vi importa della Spike? Nemico in B! Mi servono cure. Qui sono morti in tanti. Alleggia ancora la loro paura. Mi hai mancata. Un'altra missione? Bene. Tutto pur di restare sveglia. Resalet! Io risparmio. Si sono portati dietro Omen. Avverto la sua paura e la sua tristezza. È come un vecchio giocattolo dimenticato. Vi troverò! Silenzio! Devo attendere. Spike nella base attaccanti! Nemico in B! Non possono resistere per sempre! Io guardo qui. Non posso. Quella Viper crede di avere il controllo. Ma si sbaglia. Ok. Dov'era rimasta? La prossima volta li ammazzo tutti. Nemico al centro! Non male. Concentriamoci. È pagante. Basta distrazioni. Sì. Sova. Oggi andiamo a caccia. Raggruppiamoci! Ah! Annienta la sua mente. Basta sognare. Troviamo cosa nascondono. Prendiamocelo e andiamocene. Hop! Occhi aperti! Abbiamo un lavoro da fare. Ritornino! Vado in C! Non male. Quella reina non è intrepida come sembra. Hola Spike! No! Deve essere uno scherzo! Respingeteli! Stiamo svegli! Colpiranno ancora! Più feroci! Quattro marcati! Viper! Oi! Che forza! Siamo a tre! Ritirata! Vado al centro! Soprì la tua testa! Non ho cariche. Tre marcati! Nemico a terra! Darò la caccia a Sky! Spendete tutto! È inutile risparmiare ora! Chiudi gli occhi! No! Visto? C'è ancora parecchio da divertirsi. Non male! Neon! Bel lavoro! Ne abbiamo trovato uno! Vado in B! Cinque marcati! Dobbiamo spaventare il nemico! Guardate Viper, Yanni! Fa paura con quella maschera e quella voce. Noi vinciamo, loro perdono. È così che funziona. Riposizioniamoci! Avanziamo! Il copone ti ha preso! Sono entrata nella tua testa? Fa silenzio ora. Neon fermata! Al mio via! Datemi una sfida. Bene, ancora una. Basta premere un bottone ed è fatta. Facile. Almeno non sono in fondo. Vi troverò. Godetevi i vostri sogni, finché durano. Chamber lo abatto io. Un aiutino! Nemici multipli imbi! Spike nella base difensori! Voglio fidarmi di te, Brimstone. Dimostrami che faccio bene. Così sì che sono soddisfatta. Niente paura! Ho fatto tutto io! Il loro cypher ha una paura piena di rimpianto. Voci che invocano il suo aiuto e a cui non può rispondere. Teniamoli in fuga. Tipico. Date loro del filo da torcere! Nemici multiplinci! Ricarico! Tecchular! Grazie! Vai lì! Chamber! Io te li indico. Tu spari. Mi sembra l'ideale. I vostri sogni sono polvere! Nemici nella base difensori! Tanti saluti al ricognitore! Nemico in A! Uno marcato! Centro! L'incubo è finito. Almeno per loro. La paura acceca! Pensavano davvero di spaventare me? Vado io. Un gioco da ragazzi. C'eri quasi. La prossima volta, per aiutarli, limitiamoci a dei bastoni. Nemici multipli in B! Uno marcato! Liberiamo quest'area! Non si scappa! Voci Abmain, continuate a combattere. Conta solo questo. Nemico in C! Dormi, sorella. Hai visto anche troppo. Aspettate! Il loro phoenix brilla da fuori, ma in cuor suo sento la sua insicurezza. Annienta la sua mente! Abbattiamoli e piazziamo la spike. Dopodiché facciamo piazza pulita di chi resta. Ah, spike in A! Stanno cedendo! Diamogli il colpo di grazia. Spike, piazzata! Mai cedere! Nemici multipli al centro. Non posso. Sì, puntiamo alle uccisioni. Nemici nella base difensori. Sono terrorizzati. Buonanotte. Bene, ancora una. Quante volte dobbiamo respingerli? Mi sto irritando. Attenzione! Dormi! Vado al centro! Salam! Contratto onorato. Nemico vicino! Guardateli, pallidi e sudati. Ottimo. Mi sposto! Potremmo farcela a occhi chiusi. Ma consiglio di tenerli aperti. Nemico in A! Cercavi di nasconderti? Dona loro l'oscurità, Omen! E tanti saluti al loro agente migliore. Raggruppiamoci! Non importa dove si nascondono. Li troverò. Li trovo sempre. Io guardo qui! Ma stiamo scherzando! Abbiamo dimenticato la spike! Bam! Viper è andata! Basta sognare. Vado in B! Assaltiamoli! Sono miei. L'incubo ci arride. Nemico avvistato! Aspettate! La! Era destino! Tremeranno al freddo e al buio. Addio, Viper. Bello scontro. Piazza la spike! Spike in A! Raze, vedo che non hai paura del caos che scateni. Sono colpita. Spike al centro! Il loro che io è forte. Ma un proiettile lo è di più. La loro paura li tradisce. Nemico nella base difensori! Nemico nella base attaccanti! La spike è qui! Silenzio! Li assordo. Avanziamo! Tutti hanno paura di qualcosa. Dove siete? Quattro marcati! Nemici avvistati! Riposizioniamoci! Attenzione! Li assordo. Aprite le loro menti. Trovate una debolezza. Vai lì! Qualunque cosa accada, Saakin, niente panico. Tremare peggiora la mira. Vado in C! Selam! Omen, seguimi! L'incubo cresce nell'oscurità. A terra! Se si scava abbastanza, in ogni sogno c'è una verità. Vediamo cos'hanno sepolto. Tesecular! Grazie! Dove siete? Nemici multipli in A! Accidenti! Sono bravi! Nemico in C! Ii Gajalar! Avresti fatto meglio a scappare. Ci siamo! Il loro coraggio vacilla! Affrontate le vostre paure! Hanno coraggio, ma nessuno è immune alla paura. Vado io! Gebar! Spike nella base attaccanti! Disinnesca la Spike! Chamber? Ma allora non sei solo un damerino. Bravo! Siamo a tre! Spike avvistata! Il loro chamber è pericoloso da lontano, ma da vicino sanguina come tutti noi. Non serve scomodare l'incubo per farli tremare. Ultima non pronta! Li prenderemo! Ritirata! Lascio la Spike! A qualcuno serve un'arma? Nemici avvistati! La Spike a terra! Nemici multipli al centro! Non ci fermiamo fino alla morte! Salam! Pardon! Sì! Se si hanno dubbi, è meglio che ci pensi la guardiana del piano australe. Spike al centro! Di sei! Che cosa vuoi? Assaltiamoli! Qualcuno si sente generoso? Ultima pronta! Ultima pronta! Quattro a terra! Prendiamoli, Sova! Due marcati! Spike in C! Pensano di poterci derubare! Adilan! Che ridere! Arma qui! I sogni sono divertenti. In un attimo, tutto diventa buio. Tre marcati! Nei sogni ci guardo solo io. Quattro a terra! Usate la paura come un'arma. O usate una pistola, fate come vi pare. Nemico al centro! Yoru non può eludermi. Cypher, te la cavi con le informazioni. Quando abbiamo finito, dobbiamo parlare. Non si può uccidere un incubo! Hola, Spike! Spike piazzata! Inevitabile. Mi sposto. Con te ho finito. Uh, aia! Proprio dove pensavo. Centro! Spike avvistata. Spike nella base difensori! Devo ammettere che lavorare con un robot assassino conviene. Silenzio, sognatrice! Vado in A! Conoscevo ogni tua mossa. Elal, Cypher! Non ti sfugge proprio niente, vero? Spike in B! Nemici nella base attaccanti! Guardami l'oscurità! Ultima non pronta! Viper, combatti con me! Non ho nemmeno dovuto spararti! Nemico vicino! Mi servono cure! Ah, beabi! Esitare è da dilettanti! Andiamo! Silenzio! Ah, Spike in B! Nemici multiplinci! Pardon! Puntiamo alle uccisioni. Comprate quello che vi serve. Non facciamo la figura dei fessi. Vado in A! La paura cieca! Sogni d'oro, infame! Ricarico! Adi! Forza! La loro paura è una pista! E la pista è ancora calda! Mettiamoci all'opera! Viper, uniamoci! Paure e tossine sono un'ottima combinazione. Addio? No! Qualcuno si sente generoso? Arma qui! Ora il tuo incubo è finito. Continuate a martellarli e presto avremo finito. Avanti! Avanti! Dai! Bel lavoro, Lan! Siete in gamba! Incubo, attanagliali! Nemico nella base attaccanti! Pardon? Devo attendere. Li prenderemo! Nemico nella base difensori! Ok? Ci vuole un bel caffè. Offro io. Li piegherò. Dececular. Grazie. Non ho cariche. Ci sono! Ci sono! Marda! Le chiacchiere sono inutili, se poi si crepa. Nemici nella base attaccanti! Liberiamo quest'area! Finisce un sogno, ne inizia un altro. Là! La spike è qui! La perfezione non esiste, ma poco ci manca. La spike è a terra! Nessuna tregua! Bridge! Aprici la strada! Reina, quando assorbi i nemici, cosa resta? Ci stavo riflettendo. Resterà la cicatrice. Resterà la cicatrice.